Trenze progressive 92.000 volume 1, buon ascolto e buona visione a tutti. Mixai seleziona Cavaliere di Geni. Ben ritrovati, si comincia Trenze progressiva 92.000, vai vai! Buon ascolto, me l'hanno riproposta questa grande musica che ci trascinava, ci faceva ballare in discoteca. Mamma mia, che melodia! Mamma mia, adesso! Saltonia di Chase D, di Chase D, di Chase D, di Chase Hoffman! Grazie a tutti! 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 Sentila, sentila che melodia armonia, ragazzi! Aspetto i vostri commenti, le vostre votazioni! Grazie a tutti! 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 Polenta è simpatizza! Questo è dalglielo di two separate... Vai vai, questa attrezza progressiva ci porterà fino a dopo le feste di Natale in capo d'anno! No sta chiamando, eccolo! Sì, decolla, sì, decolla, da Ciampino! Pilota, pilota della grande muscatrenza progressiva è il vostro cavaliere DJ! Il vostro cavaliere DJ! Il vostro cavaliere DJ! Si riparte Vai vai Dedicato principalmente A chi adora e ama La trenza progressiva Vi voglio ricordare Questi sono gli anni 92 mila Questo è volume 1 Mamma mia che musica melodica Adesso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salutoni al DJ Hoffman! Vesti dedicata a lui! Si decolla piano piano! Cavaliere di geni, potenza musicale che non fa mai male. Faccio come sempre un gran bene per i vostri oretti, i vostri paniglioni auricolari! Attenzione alla pausa! Si carica piano piano, ma poi si riprende violentemente per sfordarmi le tasse! Si continua! Vai vai video edizione natalizia! Vai vai, ci stiamo vicino alle feste! E il vostro cavaliere sempre qua presente con la sua bellissima musica! In questo caso, trenz progressiva! Vesti selecciona cavaliere di geni! 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 M 경찰 stacciona cavaliere di geni!